Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mish Tuning Oggi vi porto un video veramente fantastico Ma prima di cominciare volevo ricordarvi che ho aperto un gruppo Telegram Di cui vi lascio il link in descrizione Potete accedervi da qualsiasi dispositivo Possiamo parlare di qualsiasi argomento per tutti gli appassionati di auto Quindi se volete trovate il link in descrizione Detto questo ragazzi come potete vedere qui trovate una linea di scarico Una linea di scarico completa in diverse configurazioni Quindi oggi parleremo prettamente di scarichi e dello scarico dell'Alfa Romeo Mito Quindi ragazzi bando alle ciance, intro e cominciamo subito Ok ragazzi quindi vediamo un po' insieme il diametro dell'intera linea di scarico Vi ricordo sempre che la mia è una 100 CV IFUEL Partiamo dalla parte del flessibile E troviamo 5 cm Qui si allarga 55 cm Solo questo pezzetto è 55 cm Sì 5 cm e mezzo Questa parte di qua del centrale è 53 cm Quindi diminuisce un po' è molto Da quello che sembra ad occhio E' che diminuisca progressivamente Qui è 52 cm 50 cm Vediamo qua 50 cm Mantiene poi come diametro Guardate qua però Si mantiene come diametro 50 cm Poi vabbè qui con l'attacco L'attacco non lo considero Quindi mantiene linea di diametro 55 cm 50 cm progressivamente E all'interno invece qua troviamo Veramente un beccuccio 46 mm 47 cm Quindi diciamo più o meno è sempre questa la misura E inoltre volevo far vedere la configurazione iniziale Della Mito 120 CV IFUEL Ovvero con questo silenziatore E questo silenziatore Io poi ho fatto rimuovere Sia questo qui Che questo Come potete vedere Questa era la mia linea di scarico Che ho sempre utilizzato E devo dire che è veramente fantastica Secondo me Cosa è meglio fare Come modifica uno scarico Per mia esperienza Non mi è piaciuto di più Avere soltanto La parte finale libera In quanto dentro la macchina Con il centrale C'erano poche vibrazioni E dava poco fastidio Soprattutto quando si andava poi Ad alti regimi In autostrada Così così Non dava fastidio Il sound comunque restava bello Ai bassi in città Mentre tutto così diretto Faceva un bordello assurdo Dopo 100 km orari Fa veramente troppo casino Ti rimbambisci Se devi fare Viaggi in autostrada Quindi Sinceramente Non lo rifarei Ok ragazzi Continuiamo quindi A vedere insieme Le immagini Come potete notare Quindi In questa foto Viene Proposto Il 1420 cavalli T-Jet GPL Dal 2008 In poi La linea di scarico È sempre la medesima Catalizzatore Flessibile anteriore Centrale silenziato E silenziatore finale Con il terminalino Ovale Come è riportato In quella foto Il diametro È da 50 mm 5 cm Quindi Penso che sia proprio Il diametro Esterno Della linea di scarico Che ci conferma Quello che abbiamo misurato In precedenza Andiamo avanti Possiamo vedere Qui Il 1.3 Multijet Da 90 cavalli Penso che la configurazione Sia la stessa Per il 120 cavalli 1.6 Non lo so Perché non ho trovato Un prospetto Di quella motorizzazione Questo è valido Dalla 2008 Al 2010 Qui abbiamo Il 1.4 78 cavalli Dal 2012 In poi Penso Non si capisce bene Sinceramente Catalizzatore anteriore Poi abbiamo tutto Un tubo Unico Dalla parte Sotto il catalizzatore Alla parte Finale Dove troviamo Il silenziatore Il tubo di scarico È tutto Da 42 Cioè Il diametro Dello scarico Esterno È da 42 È veramente Stretto Bah Non me lo sarei aspettato Andiamo quindi avanti Di qua abbiamo Il multi air 79 95 105 cavalli Prodotto dal 2008 al 2013 Diviso sempre In tre parti Catalizzatore Centrale Tubo Tutto unico Con un silenziatore E la parte Finale Silenziata Andiamo quindi Avanti E qui ci troviamo Il multi air 1435 cavalli Dal 2009 in poi Catalizzatore Flessibile Anteriore Centrale Diretto E parte Terminale Silenziata Purtroppo Non sono riuscito A trovare Un prospetto Della mito Quadrifoglio E della mito T-jet 155 cavalli A memoria Dovrebbe essere Composta Come in questa foto Ovvero Catalizzatore Flessibile Anteriore Parte centrale Diretta E finale Silenziato Con il finalino A fetta Di salame Da penso 50 mm Una cosa del genere E Il diametro Dello scarico E sempre Da 55 Se non ricordo Male Purtroppo Non sono riuscito A trovare Un prospetto Di queste due Motorizzazioni Ragazzi Che hanno foto Dell'intera linea Di scaci Quindi Purtroppo A mio malgrado Non posso Mettervi qui Una foto Ok ragazzi Siamo quindi Giunti Alla fine del video Spero che Questa clip Vi sia piaciuta Insomma Vi ho fatto vedere Lo scarico Della mito Nudo e crudo Spero Appunto Che vi sia piaciuto E in tal caso Lasciate un bel Mi piace Al video Commentate Se avete domande O cose Cercherò di rispondervi E inoltre Non vi scordate Di iscrivervi Al mio canale Di seguirmi Alla pagina Instagram Niche Tuning Per questo video Ragazzi è tutto Ciao a tutti Ragazzi Ciao a tutti